E quindi mi trovo in questo, che cos'è, non lo so, un tunnel di luce, ecco era proprio un tunnel di luce, mi trovo lì e paradossalmente non vedo nulla, c'è troppa luce, per quello non vedo nulla, mi sta seguendo? Certo, certo, sì. E all'improvviso mi appare davanti quest'uomo vestito di bianco, più luminoso della luce, eppure lo vedo, è lì davanti a me, è reale, mi dice, vincerai due premi importanti quest'anno e fu in quel momento che diventai quel personaggio, mi immedesimai e fu un successo, naturalmente. E questi sono i due premi che ho vinto l'anno scorso, ecco, questi due. Fantastico, fantastico, e mi ricordo bene perché fumo proprio noi prima di intervistarla. È vero, bravo, sì. Inspiegabili, inspiegabili ste cose però succedono. Un mio parente in America sognò dei numeri, il giorno dopo li giocò, vinse 10 milioni di dollari ad una lotteria nazionale. Ha una casa grandissima, splendida, dovrebbe vederla. Più grande di questa? Sì, sì, però questa è molto più bella, insomma, redata con un gusto e una classe, anzi, veramente, devo farle i miei complimenti. Beh, certo, con tutto quello che ci ho speso. Vive i soldi, mio caro, vive i soldi. E comunque, non credo che siano cose così inspiegabili queste situazioni, almeno non per tutti. Vede, io mi sono fatto un'idea ben precisa. Si tratta sicuramente di un messaggio, questo è un chiaro messaggio. Quell'uomo illuminato vi voleva dire che io ero il prescelto, fra i tanti personaggi esistenti in questo paese, io ero il prescelto. Certo, 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 ma io su queste cose non ho alcun dubbio, ci credo fermamente. E quindi torniamo a noi, mi farete le solite domandine stupide o avete aggiunto altro? No, 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 solite domande, solite domande, le chiederò come sta andando la comparecenza dopo l'operazione e mi raccomando, tiriamo fuori il valore della famiglia, la famiglia che le è stata così vicina in questo momento difficile, che l'ha aiutata a superarlo e poi solite cose, routine. Perfetto, consideri però che mia moglie non vuole apparire, quindi non si faccia venire in mente di chiamarla qui durante la diretta. Ah, in realtà, in realtà mi sarebbe piaciuto molto, non c'è modo. Ma no, no, direi proprio di no. Non mi ha accompagnato nemmeno a ritirare il premio, vede? Mi ha lasciato solo nella foto. Sì, sì, sì. È una donna molto riservata, si figura che quando siamo in giro per strada e qualcuno mi ferma per un autografo, sa cosa fa? No. Si allontana o addirittura scappa. Scappa addirittura? Sì, scappa. Allora. Ecco, questo al limite lo può dire. Anzi no, lo dica pure, glielo concedo. Così dopo racconto l'aneddoto e ci facevo pure due risate. Ah, ottimo, ottimo. E vi darò anche una notizia importante in anteprima. Una notizia? Sì, una splendida notizia. E di che si tratta? Adesso non le volevo dare anticipazioni perché voglio gustarvi il suo stupore durante la diretta. Una specie di metodo Stanislavski, Strasberg, ha capito? Applicato alla diretta televisiva. Va bene, va bene. Un'altra cosa, grazie. Un'altra cosa, durante la diretta poi ci daremo del tuo. Sì, sì, certo, come al solito. Ecco, a proposito, tra quatt'è la diretta? Tra poco, tra poco perché Sergio ha appena mandato la televendita e tra poco tocca a noi. Infatti, mi piacerebbe sapere dove è il cameraman, per favore. Chi è il solito ragazzo? Quale? Quello che veniva a fare le riprese in ospedale? Esatto, lui. No, no, non è quello. Non è quello, è un altro. La prima volta che lo vedo non so neanche come si chiama. E quello che fine ha fatto? E quello mi pare che l'abbiano lasciato a casa. Ah, davvero? Perché? Ma perché era un tipo troppo efficiente, troppo pignolo, non si poteva manco addossare una colpa. Non puoi lavorare con persone così. Peccato. Quel ragazzo mi riprendeva divinamente. Mi riprendeva proprio divinamente. Ci sente bene? Come? Ci sente bene? Sì, sì, sto solo caricandomi di energia, vede? Ah, sì. Questi giovani che vogliono arrivare subito, eh? Già. Mi recuperi il cameraman, per favore? E crede che sia possibile avere un po' più di luce? Vorrei essere più illuminato. No, guarda, stiamo per andare in diretta. E magari anche soltanto un riflesso o qualcosa. No, no, ma va bene così. Come non lo trovi? Ma chiamalo sul cellulare, no? Chiamalo subito e fallo venire qui immediatamente che è tardi. Incompetenti. Incompetenti. Sai cosa faccio io quando mi fanno innervosire? Cosa fanno? Incrocio i piedi così. Ecco, vede? Dopo inizio a respirare. Sollevando le mani in questo modo, fino al viso, fa defluire tutta l'energia negativa. La vede uscire, vero? Come no, sì. Dovrebbe provare anche lei, funziona. Ecco, guarda, non mi interessa, non mi interessa dov'eri. Mettiti là che stiamo per andare in onda, per favore. Ok? Tutti pronti? La luce, si potrebbe avere un po' più di luce? Vorrei essere più illuminato. Guardi, non si può, siamo proprio... Questa piatta, magari mettiamola dietro. No, 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 va benissimo, va benissimo. Grazie. Va benissimo così, anche perché la casa è stupenda, meravigliosa. È una casa grande, ma soprattutto bella. Magari il prossimo collegamento, eh. Tutti pronti? Stiamo per andare in onda, eh? Cinque, quattro, tre, due... Sì, sì, ciao, Sergio! Siamo qui, come dicevi tu, poc'anzi, a casa di un attore che non ha certo bisogno di presentazioni. Sì, ciao, hai ragione. Ma il tuo amorismo potrebbe essere nocivo alla mia salute. Esatto, esatto, perché come tutti i nostri amici a casa sanno, il nostro ospite... Ma che cavolo stai facendo? Ma dove vai? Fermatelo! 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 Grazie a tutti Sai cosa faccio io quando mi fanno innervosire? Incrocio i piedi in questo modo Inizio a respirare Sollevo le mani fino al viso Ecco in questo modo Vedi? Grazie a tutti